La ventesima edizione di Molise Cinema, che si svolgerà dal 2 a 7 agosto a Casa Calenda, sarà l'occasione per presentare il primo libro su Fabrizio Gifuni, ospite del festival per incontrare il pubblico della manifestazione e presentare il volume Fabrizio Gifuni, attore maratoneta a cura di Federico Pommier e Boris Sollazzo, edito da Cosmo Iannone, editore. Il libro ripercorre la carriera dell'artista con diversi saggi sulla sua attività cinematografica e teatrale e con interviste a Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Marco Tullio Giordana, Gianluca Tavarelli, Daniele Vicari. Il volume è corredato da una conversazione con lo stesso Fabrizio Gifuni e con una postfazione di Sonia Bergamasco. Il libro si aggiunge alla collana editoriale del festival che negli ultimi anni ha proposto monografie di Elio Germano, Alba Rockwager, Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca. Numerosi gli eventi e gli ospiti della ventesima edizione di Molise Cinema, quattro concorsi, incontri, mostre, concerti e anche un omaggio a Monica Vitti, ritratta nel manifesto del festival e in una selezione di foto a cura dell'archivio fotografico della Cineteca Nazionale.